Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 5 del periodico, 3 febbraio 2023. Le temperature notturne sentono sotto i meno 2-3 gradi centigradi e di giorno non salgono oltre i 6-7 gradi centigradi. I nostri oliviti pertanto stanno trascorrendo una invernata buona, stanno accumulando la loro fame di freddo. Si presentano anche mediamente lussureggianti e se a bene sono caduti meno acqua di quella che era prevedibile, sono mediamente idratati e anche i terreni dimostrano una buona tenuta in acqua. Perciò tutto va a portare ad avere una stagione che potrebbe dare delle buone possibilità di ottenere olive. Anche perché l'anno scorso non abbiamo avuto produzioni eccessive e la pianta dovrebbe aver accumulato delle buone quantità di sostanze di riserva. Alcuni associati hanno richiesto di approfondire l'aspetto delle potature. Quando potare e quanto potare? Così con l'aiuto della nostra lavagna andremo a valutare i tempi delle potature. Nel periodico vi abbiamo riportato dopo le quantità da asportare. La potatura. Oggi è una bella giornata di sole. Siamo alla fine di febbraio. Andiamo a tagliare gli olivi. Un attimo. Andiamo a valutare prima quello che riportiamo sulla lavagna. I cambiamenti climatici in atto, ma lo vedete voi stessi gli andamenti di questi inverni, portano delle preoccupazioni per gli olivicoltori sui tempi di potatura. Quando potare? Perché la potatura è fondamentale per andare ad attuare nelle piante dell'olivo un equilibrio, prima di tutto, fra la chioma e la radice, per evitare l'invecchiamento della pianta, ma anche per andare a togliere o limitare il più possibile l'alternanza di produzione. Se fino a qualche anno fa il mese di febbraio dava il via agli inizi della potatura, ora non è più così, perché inverni miti e freddi non particolarmente intensi, che si trascinano però, si trascinano anche per tutto il mese di marzo e con molta probabilità anche fino alla metà di aprile. E tutto questo porta a nuove scelte dei tempi di potatura, che naturalmente vanno sempre armonizzati con le necessità dall'interno delle aziende agricole che devono eseguire, in base alla disponibilità di manodopera, per le potature dell'olivo, ma anche per altre piante che potrebbero essere presenti nella stessa azienda agricola. Le temperature ideali per attuare la potatura dell'olivo sarebbero da considerare quando le temperature stesse non scendono sotto i 2-3 gradi centigradi. Ma se questo nell'Italia centro e meridionale la abbiamo verso la prima decade di marzo, al centro-nord si potrebbe andare anche alla fine del mese di marzo. Ma la pianta dell'olivo quanto può aspettare? Bene, la tecnica e la scienza ci dice che la pianta dell'olivo può essere potata anche in qualsiasi mese dell'anno, ma principalmente per attuare una corretta potatura non si deve andare oltre le tre settimane prima della fioritura. Però le potature così procrastinate nel tempo potrebbero avere degli aspetti positivi, ma potrebbero avere anche degli aspetti negativi. Iniziamo dagli aspetti negativi. Cosa potremmo trovarci nel caso di potature ritardate? Potremmo trovare una minore risposta vegetativa perché la pianta dell'olivo, nel momento in cui si ha una ripresa vegetativa, sposta tutte quelle sostanze di riserva che ha accumulato nelle radici, nel tronco e nei rami, le porta verso le foglie e le porta verso quei giovani rametti che stanno spuntando, che sono i rami dell'anno, dove si andranno a posizionare le produzioni di olive per l'anno successivo. Perciò, se noi andremo ad effettuare una potatura tardiva, perderemo queste sostanze nutritive. Inoltre, la potatura procrastinata nel tempo potrebbe con molta probabilità portare a una riduzione dell'induzione fiorale che avviene fra il mese di giugno e il mese di luglio. È la prima induzione fiorale che avviene proprio per una competizione fra elementi nutritivi che si trovano all'interno della pianta e se noi abbiamo meno traslocazioni di questi elementi, di macroelementi, soprattutto avremo una minore induzione fiorale per l'anno successivo. Un terzo aspetto negativo potrebbe essere che i rametti dell'anno risultino alla fine della stagione leggermente più corti. E questo diventa un problema perché? Perché proprio su quei rametti lì si posiziona la produzione dell'anno successivo e se sono più corti ci starà meno prodotto sopra. Abbiamo però anche gli aspetti positivi e gli aspetti positivi sono quelli di un contenimento del vigore vegetativo. Se noi abbiamo oliveti che sono magari squilibrati dal punto di vista della chioma delle radici con elevate presenze di polloni, di succhioni con forte lussureggiamento una potatura tardiva andrebbe a ridurre questo vigore proprio per questi aspetti negativi che abbiamo appena visto. Invece non ha nessun valore per quello che riguarda la maturazione delle olive la resa in olio e la qualità degli oli ottenuti. Nel periodico siamo andati ad approfondire anche l'aspetto della quantità di legno da togliere nelle chiome e qua andate a leggerlo perché risulta interessante da studi effettuati e da quello che si può trovare in letteratura che limitate potature limitati tagli portano a maggiori produzioni però questi devono essere fatti con una scienza coscienza e vi invito a leggerlo. E adesso nel ringraziarvi per l'ascolto un buon risentirci alla settimana prossima. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.